Quando si scrive un libro c'è la soddisfazione di aver permesso su carta un proprio pensiero, qui parliamo di bioetica, però c'è anche la soddisfazione di presentare un testo che parla di bioetica nella più alta espressione della Chiesa Cattolica che è il Vaticano. Lei ha avuto questa fortuna anche? Sì, è stato un traguardo molto piacevole, una grande soddisfazione per un canicattinese presentare in un Ateneo Pontificio che dipende dal Vaticano il proprio libro, evidentemente è stato un traguardo e una grande soddisfazione, anche perché a presentare il libro è stato il decano della Facoltà di Bioetica. Il titolo è Bioetica e Magistero perché raccoglie tutti i documenti dei papi su 15 temi che riguardano la biomedicina, e cioè la fecondazione, l'eutanasia, i trapianti, le cellule staminali, gli embrioni, le diagnosi prenatale, preimpianto e via dicendo. Un libro di 900 pagine che mi è costato 10 anni di lavoro e che adesso si trova in tutte le librerie paoline d'Italia, nelle Facoltà Teologiche d'Italia e probabilmente sarà tradotto anche in altre lingue. Lei con la sua associazione di bioetica si è sempre occupato di questi argomenti, ogni anno veniva organizzato un congresso di alto livello con grandi specialisti, insomma medici, che venivano ad Agrigento a discutere della correlazione tra etica e quindi diretto alla vita. Adesso un po' forse questa attività si è fermata, ma lei da quanto è assessore ha meno tempo oppure prosegue in questo senso? Mi è sollecita ad anticipare qualcosa che avrei voluto dire dopo. Anche l'incontro in Vaticano ha avuto questo risultato positivo. Probabilmente qui a Canicattì nascerà un istituto di ricerca, un istituto di ricerca che sarà dedicato ad Antonino Ciascia, che è stato un nostro concittadino, studioso, ricercatore, scienziato, scopritore dell'effetto positivo della foto per la terapia e che noi evidentemente vogliamo ricordare e probabilmente Canicattì sarà sede di congressi a livello internazionale.